Ben trovati con lo spazio a cura di Mediocalabria.net. Un generale aumento della nuvolosità con qualche isolato fenomeno potrebbe annunciare un nuovo peggioramento atteso nel fine settimana, ma ovviamente ne riparleremo. Mercoledì 1, parzialmente nuvoloso-nuvoloso su tirreniche ed interne, con la possibilità di qualche precipitazione debole ed isolata, più probabile fra tarte serate e prime ore della notte, quanto sarà possibile anche qualche leggera nevicata sui monti di Polino e Sila, oltre 1.300-1.400 metri di quota. Venti di ponente moderati, martirreno mosso, poco mosso lo ionio, temperature e lieve rialzo. Condizioni simili anche per giovedì 2 dicembre, ma con 20 tesi decuadranti sud-occidentali, a tratti localmente anche forti. Qualche pioggia sull'alto tirreno, deboli nevicate possibili sul Polino e in alta montagna. Bene, per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie per la visione!